ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul perché? perché ho fatto degli acquisti ebbene sì ho fatto degli acquisti ho fatto degli acquisti da sefora li ho messi qua dentro nel sacchetto invernale natalizio perché i vari sacchetti si sono strappati perché ci sono andate in varie tranche e alcuni li ho fatti tramite il sito quindi direttamente dal sito allora cosa ho avuto in regalo da questa diciamo promozione perché due o tre prodotti li avevo presi direttamente al sito ho ricevuto in regalo questa credo che sia per quanto riguarda la sefora gold ma io ho ricevuto questa e devo dire che mi è piaciuta molto quello che c'è all'interno vi faccio vedere subito quello che c'è apriamo la caramella allora per prima cosa vedo una maschera questa è la maschera al cocco è una face mask ovviamente quindi non vedo l'ora di utilizzarla non l'ho mai provata non ho mai provato le maschere di sefora quindi ottimo è al cocco quindi yeah qui ti spiega tutto come deve essere utilizzata ottimo poi abbiamo una tinta labbra di sefora questa è la 01 che io posseggo ovviamente quindi la tengo chiusa perché la devo regalare a una persona che vuole una tinta labbra rossa sta potendo il cervello così e quindi regalo poi c'è uno struccante bifasico mini questo è ottimo perché chi va in viaggio se lo porta ed è veramente ottimo quindi ottima scelta e poi c'è una crema idratante che è questa qui all'acido ialuronico che è la stessa identica del contorno occhi che ho preso un po' di tempo fa quindi sono molto contenta di averla ricevuta nel pacchetto così non l'ho dovuta comprare quindi la utilizzerò in combo con il contorno occhi questa crema poi andiamo avanti ho preso dei set da viaggio ma a me piacevano il fatto che sono delle mini taglie e quindi li ho volute prendere il primo che vi faccio vedere è questo set qui di Olerskin questo è got to glow e sono due prodotti e ve li faccio vedere abbiamo questo che è uno scrub ed è al polvere di noci a estratto di ginseng levica e deterge intensamente purifica i pori e illumina l'incarnato quindi è uno scrub vedete sono piccoli potete mettere in borsetta e ciao l'altro invece che vi faccio vedere è il siero molto molto conosciuto di questa marca infatti è il truth serum ed è un'azione intensa di collagene aiuta a donare luminosità alla pelle e rassodarla arricchisce la pelle di potenti sostanze antiossidanti quindi ottimo sono tutte e due piccolini come vedete e li potete mettere benissimo nel vostro beauty e portarveli in vacanza a me queste cose piacciono e infatti c'era l'offerta e le ho voluti prendere andiamo avanti e parliamo sempre di Olerskin questo è il Nutrure Yourself e abbiamo questo che è un cleanser e rimuove il trucco resistente all'acqua quindi ottimo questo lo dovete utilizzare inumidite diciamo le dita lo mettete un po' nelle mani e strafinate il viso masseggiate il viso delicatamente e rimuovere poi con un panno loro dicono di rimuoverlo con un panno io sinceramente lo toglierò con il dischetto che voi avete preso a Lidl e che io ho preso da L'Express poi abbiamo questa qui che è una maschera detossinante purifica e ammorbidisce la pelle che è questa questa qui si tiene 10 minuti e poi viene tolta e poi infine c'è una crema che è questa qui questi sono 60 ml di prodotto la crema poi la maschera 30 e la crema 30 quindi ottimo ottimo acquisto poi andiamo avanti ho preso questo anche se non è adatto diciamo alla mia pelle ma mi piace tanto perché ho visto delle recensioni anche di persone che hanno la pelle secca e si sono trovate benissimo questo è balance it all ed è a olio e combinazioni vabbè eccetera eccetera questo è allora questo qui dice di ridurre il sebe in eccesso e pulisce i pori questo qui poi abbiamo il tonico che è questo qui ai semi di acido salicidico eccetera eccetera e poi infine abbiamo un olio di semi aspettate che cos'è qual era questo ah un idratante una specie di olio idratante che si utilizza alla fine questo è no questo era giusto aspetta c'era qualcosa che infatti adesso che l'ho letto me lo ricordo questo è idratante leggero opacizzante per pelli con tendenze alle olosabili questi prodotti di norma sono per persone che hanno del sebo in eccesso ovviamente sul viso io non ho questa questa tendenza di oleosità sul viso ma certe volte mi capita specialmente se ottengo tantissimo il fondotinta sul viso oppure ovviamente se si suda eccetera eccetera specialmente questo in estate che il sebo ci sarà proprio a te capiglietil come si dice in siciliano l'ho voluto prendere poi c'è scritto anche che riduce i pori quindi ottimo anche questa combo l'ultima combo che ho preso per quanto riguarda sempre Olerskin è questa ed è la Britter Trat se non mi sbaglio si legge così e questa è tutta la vitamina C sono tre prodotti ottimi per la vitamina C e abbiamo un detergente che rimuove il trucco in profondità poi abbiamo il siero che abbiamo visto anche nell'altro lato e poi abbiamo la gel crema quindi una crema gel e qui abbiamo 60 ml di prodotto per quanto riguarda il cleanser quindi il sapone poi abbiamo 15 ml per quanto riguarda il siero e 35 ml per quanto riguarda la crema qui non ve l'ho detto ve lo dico subito abbiamo 60 ml per quanto riguarda il cleanser poi 65 ml per quanto riguarda il toner e 15 ml per quanto riguarda la crema idratante poi per finire ho preso una cosa che c'era in promozione in quel periodo se non mi sbaglio era in promozione nel sito ora non vorrei sbagliarmi ma se non mi sbaglio veramente io l'ho presa dal sito e sto parlando di questo prodotto questo l'ho sentito parlare benissimo sinceramente non l'ho mai preso perché il prezzo era molto molto ma molto ma molto ripeto molto esagerato quindi non l'ho voluto prendere però mi sono messa curiosità e quindi l'ho voluto provare e si tratta di Estée Lauder ci sono tre prodotti che se per caso al me interessano soltanto due di questi prodotti il maschera non interessa se per caso questi prodotti mi piacciono io li utilizzo perché io poi ho fatto altri acquisti per quanto riguarda la skin care e tutto di un'altra marca sempre da Sephora che vi farò vedere poi nei prossimi giorni allora qui cosa abbiamo abbiamo una crema con tornocchi se non mi sbaglierà questa riporazione sincronizzato ulta concentrato per contorno occhi questa è una crema con tornocchi mi piace tantissimo perché una pensa vabbè ma è grandissima è questa c'è guardate lo scatolo e questa è la confezione cioè è piccolissima comunque questa è l'Estée Lauder Advanced Night Repair quindi sono dei prodotti che si devono utilizzare la notte quindi questo è la prima cosa che volevo utilizzare che era molto ma molto curiosa poi all'interno si trovava anche il mini mascara di Estée Lauder dicono che è molto molto buono questo è l'Extreme Black lo proverò quando lo metterò qui nella scrivania lo proverò oppure lo metterò in borsetta e poi preparatevi prendetevi anche la lente di ingrandimento perché vi faccio vedere una cosa issima issima ed è questo e questo qui è sempre il prodotto Night Repair e vi volevo dire che cos'era perché qui c'era scritto dove è messo perché mi ha fatto veramente tanto ridere allora questo dice è un complesso di riparazione sincronizzato per tutti i tipi di pelle potenziato con un'esclusiva tecnologica rigenerante questo siero è un siero quindi dovete stare attenti è un siero che riduce visibilmente l'aspetto dei principali segni dell'invecchiamento cioè qua chiamatemi sono qua questo potente ed efficace complesso rigenerante aiuta la naturale sincronizzazione del processo di rigenerazione notturna della pelle quindi è ottimo verrà messo ovviamente sul viso e sinceramente sono molto ma molto curiosa di provarlo questi sono tutti i prodotti che ho acquistato e poi ovviamente in base a quello che ho preso la commessa siccome c'è stato un disguido di tante e tante cose mi ha regalato questo che è una crema fresh è un campioncino credo che sia non lo so ed è una cleanser quindi una maschera face ace sì una maschera per gli occhi e il viso ed è questa qui della marca fresh so che la marca fresh è molto molto cara sinceramente come marca quindi speriamo bene che i prodotti sono ottimi e quindi questa per finire bene ragazzi questo è tutto per quanto riguarda Sephora ditemi se avete utilizzato questi prodotti se vi piace questa marca Olerskin Olerskin non so come si dice io la dico per come è scritta scrivetemi un commentino se vi piace o non vi piace l'avete già utilizzata scusatemi io sento caldo qui anche stanno sparando delle bombe quindi forse ci sarà un compleanno o qualcos'altro non lo so e niente che dirvi ragazzi per questo video io ho finito ovviamente vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao